bella a tutti ragazzi eccoci qua su Edbanger's Rhythm Royale per la vostra rubrica novità di game pass abbiamo questo gioco che è stato aggiunto i primi di novembre del 2023 ovviamente dove siete dei piccioni vedete col joystick potete con la levetta di destra potete fargli fare tutte le robe così io ho fatto una partita di prova diciamo che ce n'era una facile una difficile sono arrivato al secondo game su tre è cross platform quindi va benissimo ci sono le impostazioni per hai tutto in italiano ovviamente allora comando riconoscimenti e violazione controllo cross play vedete cross platform cross play quello che regione preferita è Europa vabbè allora sfide qua sono delle sfide io non so gioco 8 partite vedendo questa skin eccetera eccetera ma le giochiamo subito facciamo gioca a me era venuto fuori colpevole o non colpevole bella poi vi appaiono le casse che dovete prendere con le teoreti e le casse di oggetti sono i potenziamenti bonus eccetera eccetera è un po' un casino non sono un grosso amante viaggio un po la musica altrimenti ovviamente tutta la musica qua penso penso che sia tutto copyright quindi questo video qua vi apparirà finalmente senza neanche una pubblicità ecco vedete sono i turni vedete mi pare che sono una 30 persone 6 30 30 poi se al turno 2 si resta in 20 il turno 3 in 10 il turno 4 in 5 e poi dopo il turno 4 vedete che anche quelli sono già quelli pro questi vedete io con la levetta sono quelle evidenziate mano a mano manca un player 29 di 30 anche con la levetta sinistra ok anche con la levetta sinistra perfetto 28 dai così arriviamo così ho più probabilità di arrivare poi ma mano a mano che voi andate avanti lb profili che cacchio è ok ma la mano che voi andate avanti vi dice già se siete eliminati o no io spero di non siete eliminati di essere eliminati già il primo turno ma questo qua tanto giusto una roba per per far vedere come funziona se vi piacciono 20 secondi ragazzi cioè io sono stato eliminato praticamente al turno 3 perché dovevo era quello che bisognava contare quante volte vedete queste sono le varie modalità dei giochi ho visto colpevole non colpevole ecco questo non mai fatto colpisce le getti in arrivo i 20 migliori i punteggi x oa ok questo tipo gitarre europee cioè di base a quello è che mi ero incasinato altra volta quindi speriamo che siano un po di gente fk quindi speriamo bene vedete potete muovervi a manetta spero che solo x e a sì 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 solo a x ma 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 ok capito ok capito no 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 ma no se che anche sono ventiseiesimo devo recuperare raga no sbagliato raga porco schifo stavo guardando un'altra parte mi sono incasinato ultimo sono è che è la combo bonus round ma che cacchia roba è aspetta aspetta che me sta in casa in acqua non sto legge ok è malissimo ragazzi e alla fine quando mi abito viene bene no no eliminatissimo le facciamo un'altra subito devo fare forse con due mani non lo so disqualify ricompense vai vi faccio vedere con un'altra modalità e poi basta perché sto gioco sinceramente non è che mi piaccia molto ma solo per farvelo vedere a voi gioca ho vinto qualcosa penso vabbè dopo vediamo dopo vediamo ragazzi ok siamo nella lobby 22 di 30 già vediamo i nomi bè ragazzi abbiamo degli american abbiamo i nightmare round one ok vediamo spero che venga fuori guilty perché quello eccolo qua manco detto qua dovete impa dovete beccare chi è stato a cantare canzone per esempio se c'è una canzone rock dovete indicare tipo al vispray se c'è una canzone tecno dovete mettere capito trova il piccione che corrisponde alla musica più rapidamente possibile quindi dovete essere anche veloci a beccarlo questo lo passo è io sono quello lì in mezzo ok vedete questo è il primo attenzione ok beccato sono stato fra i primi vedete colpevole vedi beccato chi è questo la banda è è stato un po più lento però è non capivo all'inizio avere un deciso fra lo scozzese occhio è questo sarà un rapper questo ultimissimo ma che cacchio è bonus round ma che è no per poco questo questo sono tredicesimo comunque e non ho sbagliato neanche una dai che lo passiamo vedete 14 perso solo un posto adesso i mashups ragazzi occhio è è uguale no ho sbagliato vuoi vedere che ho vinto siiii e che cacchio so io questo metto no quello in mezzo pirata beccato per primo primo o forse era quello di destra ok dammi il bonus no no era quello a sinistra il primo no no oh lo beccato ragazzi abbiamo passato vedete guilty mi piace qualified adesso vediamo il prossimo che lo perderò a bomba vedete io sono da xbox quello dopo anche lui da xbox 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 violence cross platform non penso che perché non si perché è un simbolino cioè questo ha vinto e questo è passato e questo non è passato vabbè io dove sono che non mi ricordo vabbè allora vediamo un po' piano shooter che cacchio è? riproduci tutte le melodie più rapidamente possibile oh cacchio Rola eh sì ciao vabbè con L ci spostiamo e con L colpiamo dai è un gioco di memoria eccomi qua sono vicino dove sto io? sono vicino alla melanzana lì ok vediamo un po' mamma mia che casino eh no era quello questo quello era eh dai che l'ho preso mamma mia eh dai pam 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 oh raga ma che cacchio ventesimo ventesimo diciannovesimo eh non passo mai più vaffancapolo sì ma dal controller è difficilissimo serve meglio dal mouse ragazzi eh sì vabbè non sto neanche guardando io adesso e ciao e ciao quella era ok eliminato ragazzi finisco qua perché tanto comunque siamo già col tempo a posto ragazzi spero che vi piaccia questo video questa serie come sempre commentate che vi piaccia ragazzi ci vediamo in un prossimo video barra live slash novità ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti